Un saluto a tutti cari amici di youtube Come ben vedete Io Non ho smesso ancora di fare video Continuerò sempre di più a farli Oggi periodo di quarantena E' un periodo in cui Uno può approfittare Siccome lo youtuber si è un lavoro Che molto spesso Lavora da casa Di fare video Ovviamente oltre a fare video Io disegno e scrivo anche Racconti E sono passioni Che uno fa Ogni volta che si sente Di fare Queste cose artistiche Come disegnare O scrivere un racconto Sono cose Che uno le deve fare Appena Mi viene L'ispirazione Cioè io l'ispirazione Già l'ho iniziata Ogni volta che ho Il via Di Di continuare Lo faccio Così come adesso Che Ho avuto l'ispirazione Di fare questo video E ovviamente Lo sto facendo Quando sarà l'occasione Potrò comprarmi Qualche nuovo libro A tema esoterico Oppure scaricarmi In pdf E appena Ci avrò capito Qualcosa Che io Queste cose Le capisco E anche Benissimo Ognuno E portato Per capire Una determinata Materia Io Sono appassionato Di esoterismo Di queste cose qua Non vedo Niente Di male In questo E appena Ho la possibilità Economica Di potermi Comprare un libro Di queste cose qua Oppure Di Andare a fare Qualche ricerche Su internet Io lo faccio Senza Nessun Problema Bene amici Per il momento Non ho nulla Da aggiungere Io spero Di Migliorare Tecnicamente Come Youtubers Spero Che i miei iscritti Io vedo Che A poco La volta Un passo La volta Salgo Come iscritti Spero Di aumentare Anche Come Visualizzazioni Di raggiungere Le mie 4000 ore Di visualizzazione Che Purtroppo Non le ho ancora Raggiunto E Continuare Così A fare Video Che I video Quelli Continuerò Anche se Le visual Sono Poche Iscrivetemi Anche All'altro Canale Che ho io Festaiolo Universale E cercatemi Anche su Instagram Scrivendo Gran Mitico Ci sono Due profili Instagram Intitolati Gran Mitico Seguiteli Entrambi Sono Entrambi I miei In uno Non lo riesco Più A Utilizzare Per Problemi Tecnici L'altro Invece Ci metto Soltanto I miei Disegni Bene Amici Con questo è tutto Un abbraccio Immenso Dal Gran Mitico Un abbraccio Un abbraccio Un abbraccio Un abbraccio Un abbraccio